su questo palco chiamiamo alex valentini dj in realtà nome di martesimo guido marchi nasce musicalmente a radio antenna monte carlo per poi si vinti nelle maggiori discoteche toscane beautiful life 1985 buonasera a tutti buonasera queste note le conosco e questo si sente il partito su metodora con l'impostazione da dittecchio e l'impostazione quella viene da solo anche se non te la prepari però quella viene come i cantanti che cantano di diaframma e dice sono impostati quindi quando sentono la musica si attiva sì di solito sì però basta proprio come quando quando si alza il cursore che parte la serata anche se uno si sente male o qualcosa passa tutto è stato il mio disco quello che si sta ascoltando è stato anche ristampato proprio ora ultimamente dal che è stato nominato anche prima d'angola davide persichella che ha fatto una riedizione di questa canzone doppia soddisfazione la seconda giovinezza per questa canzone grazie a tutti buonasera un applauso alex valentini grazie a tutti grazie a tutti